Salve fratelli d'Italia, sono Mario ed oggi friggerò un uovo usando soltanto questa lattina e una padellina Ok, iniziamo. Qui c'è la padellina, c'è un po' d'olio solo perché non la voglio rovinare ma potreste benissimo fare senza Dentro c'è l'uovo, metto un po' di alcol il più possibile qui sopra lo accendo aspetto per fuoco in all'interno tiro fuori l'uovo dalla padella e adesso sta a cuocere e adesso lo metto dentro e aspettiamo iniziamo 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 L'odore di plastica vernice bruciata e uovo e olio che si brucia perché il calore è poco uniforme, mi ricorda proprio dei boy scout della FSE. Grazie per la visione!